Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti da Nicola Paratrading e benvenuti alla consueta video analisi flash dei mercati finanziari del mercoledì per Marco Tosoni Official. Eccezionalmente questa settimana andremo ad analizzare strumenti diversi dal solito, analizzeremo il Nasdaq come rappresentante degli indici americani, il DAX come rappresentante di quelli europei, due materie prime le più importanti in assoluto oro e petrolio e poi come rappresentante del mondo valutario ci concentreremo sul cambio principale ovvero l'euro dollaro. Partiamo proprio da questo, partiamo dall'ultimo e vediamo in che situazione si trova. Attenzione perché dalla fine di settembre, l'inizio di quel trend rialzista di cui abbiamo parlato spessissimo, l'euro dollaro non aveva mai fatto un movimento di ritracciamento come quello degli ultimi giorni, che sostanzialmente è partito dalle banche centrali di settimana scorsa. Mercoledì la Fed, giovedì la BCE, all'inizio c'è stato un movimento di salita, nuovi massimi di periodo per euro dollaro, ma poi è tornato indietro. È finito il trend rialzista di euro dollaro? Per il momento ancora no. Fateci caso, l'euro dollaro è sceso e per il momento si è appoggiato in corrispondenza di questo vecchio massimo precedente del 15 di dicembre che fu ed è un livello sensibile orizzontale molto molto importante. Una volta arrivato su questo livello, come potete vedere anche in diretta, già nella giornata di ieri ha chiuso una seduta a più 0%, dopo tre giorni di perdite dopo tre giorni di fila negativi, è riuscito nella giornata di ieri a chiudere a più 0%. Quindi l'idea è che l'euro dollaro possa in qualche modo rallentare la forza ribassista, lateralizzare attorno a questo livello di prezzo, quindi stiamo parlando di 1,07 e 30 circa, e piano piano gettare le basi per una ripartenza long. Quindi sostanzialmente costruire su questo livello di prezzo già raggiunto nella giornata di ieri l'ennesimo minimo relativo superiore al precedente. Però avremmo conferma di questa ripartenza long solo se si torna con chiusura di giornata sopra i massimi di ieri, quindi solo se si torna sopra 1,07 e 65,70 circa. Altrimenti nel breve, brevissimo periodo continuerà questo trend ribassista che sta caratterizzando gli ultimi giorni del euro dollaro. Andiamo avanti e analizziamo il principale indice europeo, il DAX. Oddio, non è il principale, il principale in realtà è l'euro stocks, ma sicuramente è il preferito dai trader di tutto il mondo. Siamo long da inizio anno, in realtà siamo long anche in questo caso come su euro dollaro, dalla fine di settembre e nulla è cambiato. L'euro dollaro prima era più forte degli indici durante la salita, adesso sono gli indici, nello specifico europei, ad essere diventati più forti di euro dollaro. Lo vedete bene, dagli ultimi giorni di mercato l'euro dollaro è sceso e il DAX è rimasto sostanzialmente fermo agli stessi livelli di prezzo da quasi una settimana. Quindi l'ho confermato, non dobbiamo assolutamente andare sotto questi due minimi qua che corrispondono guarda caso esattamente a questi due massimi qui, 17 e 18 di gennaio, per confermare la tendenza rialzista di breve periodo. Quindi stiamo parlando di 15.270 punti di prezzo indice. Se volete il prezzo future dovete aggiungere semplicemente 50 punti in più. Quindi finché ci manteniamo al di sopra di questo livello DAX è long, il prossimo obiettivo chiaramente è il massimo del 2 di febbraio che sul prezzo indice è stato fatto esattamente a 15.550 punti. Una volta raggiunto quel livello di prezzo valuteremo e cercheremo nuovi target da raggiungere a rialzo per il DAX. Ci spostiamo su il preferito degli indici americani ovvero il Nasdaq. Non è il principale perché il principale è l'S&P 500 ma sicuramente per la sua volatilità è il preferito da noi trader. Anche lui è long, anche lui è incanalato in una sequenza rialzista, molto pulita, molto decisa, molto forte dall'inizio dell'anno. Anche lui negli ultimi giorni è diventato più forte dell'euro dollaro. L'euro dollaro prima saliva insieme agli indici ma lo faceva in maniera più forte. Adesso sono gli indici dalle banche centrali di mercoledì e giovedì ad essere diventati più performanti. E posso dirvi che in diretta sono quasi le 5 di mercoledì quando sto registrando questa video analisi. Il Nasdaq è arrivato su un livello di ritracciamento bellissimo perché se uno strumento è long noi dobbiamo cercare dei livelli operativi di acquisto e questi massimi qua sono un livello di acquisto perfetto, bellissimo sul Nasdaq ovvero 12.550 punti circa, poco più in realtà. Quando è stato fatto il minimo di giornata per il momento sul Nasdaq? 12.555 punti. Esattamente in corrispondenza di questi due massimi precedenti. Quindi dovremmo aver appena concluso un movimento di ritracciamento, il Nasdaq dovrebbe ripartire e ovviamente anche in questo caso come per il DAX il prossimo target sono i massimi del 2 di febbraio ovvero 12.900 punti. Anche in questo caso vi ho detto dei livelli di prezzo che sono prezzi indice e non prezzi future. Mi raccomando non deve il Nasdaq assolutamente chiudere una giornata sotto il minimo del 6 di febbraio ovvero sotto 12.400 punti altrimenti questa tendenza rialzista di breve periodo verrebbe ufficialmente interrotta. Andiamo avanti e ci spostiamo sulle materie prime, oro e petrolio. Due situazioni completamente diverse. Andiamo sull'oro. Bellissimo trend rialzista che più o meno come sull'euro dollaro e come sugli indici in particolare europei dura dalla fine di ottobre inizio di novembre. Inizio di novembre per essere più precisi. Trend rialzista molto forte che è stato ufficialmente interrotto dalla discesa degli ultimi giorni? Assolutamente no. Questa discesa che ha fatto l'oro negli ultimi giorni è solo un trend ribassista di breve periodo ma questa sequenza viceversa rialzista di medio periodo che dura da mesi non è assolutamente interrotta ma possiamo farlo come un semplice ritracciamento. Ritracciamento che è giunto al termine? Punto di domanda? Forse sì. Forse sì perché non so se ci avete fatto caso basta zoomare un po' e lo vedete bene è già quattro giorni di fila che l'oro dopo due pesantissime sedute rosse è praticamente fermo sugli stessi livelli di prezzo. Quindi come sempre succede dopo una discesa la forza ribassista rallenta la volatilità diminuisce si cerca di creare una sorta di lateralità di congestione una base di riaccumulazione per provare a ripartire verso l'alto. Quindi io penso che un po' come sull'euro dollaro anche sull'oro questo probabilmente sarà un minimo relativo superiore ai precedenti e piano piano l'oro troverà la forza di ritornare sui massimi di periodo. Primo target 1900 dollari. Secondo target ce ne sono tanti intermedi lungo il tragitto ma io direi che il 1950 praticamente i massimi di periodo i massimi annuali sono sicuramente il secondo livello di target più importante che l'oro dovrà raggiungere. Ci vorrà parecchio e quindi insomma avremo modo di parlarne nella video analisi della prossima settimana. Mi raccomando assolutamente non si deve chiudere una giornata qui sotto sotto 1860 altrimenti questo trend ribassista di breve periodo continuerà e non sarà assolutamente interrotto. Concludiamo con il petrolio che invece è già long dall'inizio della settimana. Guardate cosa ha fatto il petrolio per l'ennesima volta è tornato sotto questi è tornato in corrispondenza di questo livello di supporto in questo livello di minimi precedenti area 71 barra 72 dollari al barile circa e per l'ennesima volta dopo essere tornato su quel livello di prezzo lunedì questa seduta qua il 6 di febbraio ha fatto un segnale long sul livello importante ed è di nuovo ripartito verso l'alto. Tre giornate di fila verdi tre giornate con minimi e massimi crescenti quindi adesso di breve periodo il petrolio è long e attenzione perché il primo target importante sono gli 81 dollari al barile questo livello di resistenza questo questo livello di massimi questo soffitto di un trading range che accompagna il petrolio da parecchio tempo è sicuramente il target più importante il primo target riazista che il petrolio deve raggiungere può fare dei ritracciamenti può tornare indietro il petrolio tranquillamente anche fino ai minimi della giornata di ieri martedì 7 febbraio non deve assolutamente andare sotto i 74 altrimenti questa tendenza riazista di breve periodo verrebbe ufficialmente interrotta ma è talmente tanto più in altro che insomma non penso che accada o perlomeno non di certo nel brevissimo periodo nelle prossime ore nei prossimi giorni con questo è tutto io vi do appuntamento a mercoledì prossimo sempre qua con nicola paratrading con la video analisi flash dei mercati finanziari per marco tosoni official grazie 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 grazie